Circa 400 controlli, ben 87 kg di asparagi sequestrati e 42 sanzioni elevate per circa 16.000 euro. Questi sono i numeri della campagna di controlli da parte dei carabinieri forestali nella regione Campania. Anche in provincia di Salerno i controlli sono stati mirati alla verifica dell'osservanza del divieto di raccolta dell'asparago sulle aree boscate e pascolive percorse dal fuoco lo scorso anno. Divieto introdotto dal Regolamento regionale di tutela del patrimonio forestale numero 3 del 2017 e diretto a scoraggiare la pratica dell'abbruciamento dei soprassuoli forestali per favorire la crescita dei germogli. Nel corso delle attività sono emerse circostanze per le quali i controlli sono stati estesi anche alla tutela del consumatore mediante la contestazione di casi di commercializzazione degli asparagi in assenza di tracciabilità presso esercizi commerciali. La campagna di controlli si inquadra nella più vasta azione di prevenzione degli incendi boschivi condotta mediante il controllo di tutte le attività vietate nelle aree forestali incendiate come la caccia, il pascolo e le trasformazioni del bosco in altra cultura.